Io sono nato a Riccione, a Rimini in realtà, vivo a Riccione, ho fatto l'infermiere per 40 anni, da due anni ho smesso di fare l'infermiere, mi sono licenziato per questioni di lavoro. Faccio il consulente, il counselor bioemotivo, faccio dei corsi, tengo dei corsi di formazione, di divulgazione, lo faccio perché ho sempre creduto nella medicina ufficiale, nella scienza, quella scientifica, tra virgolette, ma che non mi dava delle risposte quando io sono stato coinvolto da un problema di salute. Queste risposte non me le dava, la risposta era sempre di tipo farmacologico, sempre questioni chimiche, questa cosa non mi bastava. Ho cominciato a cercare, mi sono fatto trattare in modo alternativo con la medicina cinese, ho cominciato a studiare e ho detto, va bene, perché me la devo tenere per me? Ho pensato che fosse importante che tutte le persone avessero del materiale su cui riflettere, studiare, verificare, soprattutto verificare. Fino a che sono approdato alla conoscenza delle cinque leggi, lì è cambiato completamente il paradigma ed è cambiata la mia vita. Ho avuto modo di verificare di persona quello che poi vado divulgando, ho il supporto di una esperienza in ospedale, quindi ho vissuto le cose da un punto di vista chirurgico, le ho viste sulle persone e questo mi hanno dato una grande mano. L'altro è proprio l'aver verificato su di me e sulle persone la fondatezza di quello che vado dicendo, quindi non vado dicendolo perché l'ho studiato, l'ho letto, ho fatto i corsi. Lo faccio perché l'ho vissuto, l'ho visto, insomma, è un'esperienza diretta. All'altro è un'esperienza diretta. All'altro è un'esperienza diretta. All'altro è un'esperienza diretta. Grazie a tutti